10 5 Per appiena, in accenno sinistro stringe, in accenno destro stop 30 A2 secca stringe, in S2 30 imposta E forse apre più secca 50 stop, no tornante destro Apre pieno, tieni 40 e fine d'osso No S3++ 40 e no S3 meno meno secca 50 e no S2 secca, ecco la S2 secca 80 destri, A3++ chiude 30 e A3 meno doppia chiude la seconda e vai 150 Fine d'osso, accenno sinistro stringe, no no stop stop in A2 30 A2 30 e 3++ 30 e stop tornante destro 40 e imposta No S2 tonda, chiude e tieni, 70 e no A3 meno stringe, stop stop imposta In tornante sinistro, tornante sinistro 50 Per tornante destro Tornante destro per S piena, allargati 50, chiude 3 Stop 10, chiude S1 Chiude S1 In no A2 tonda In no A2 tonda, lunga lunga continua In A3 più In accenno sinistro 50 destri E stop, no, ricorda, no S3 meno, stop 20 e leva destra stretta 50 Accenno destro, stop In accenno sinistro 20 e leva sinistra Leva sinistra Piera piena Via 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 1,41 Perciò un pochino Sottornante Vabbè, vediamo 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 Vabbè, vediamo